E continua il nostro viaggio in Val d'Aosta, questa volta però parliamo di conservazione della natura e dal 2007 ma anche da molto prima, da più di 50 anni in realtà, continua la ricerca per conservare, conoscere meglio, perché senza conoscere non si protegge ovviamente, lo stambecco, un simbolo del Parco Nazionale del Gran Paradiso, un simbolo per tutta la nostra, chiaramente, fauna italiana. E qui con noi Alice Brambilla, naturalista, ricercatrice del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Benvenuta, un piacere averti qui. Allora, parliamo di questa specie molto, molto tipica delle nostre Alpi, non soltanto del Gran Paradiso, ma qui trova il suo fulcro, il suo punto di sorgente, potremmo chiamarlo, poi ci spiegherai meglio perché intendo questa parola. Com'è lo stato di salute dello stambecco attualmente? Se consideriamo lo stambecco nel suo complesso, su tutte le Alpi, lo stato di salute non sembra così pessimo. Infatti, dei recenti conteggi hanno individuato circa 50.000 individui su tutto l'arco alpino. Se pensiamo che tutti questi derivano da un nucleo di poco più di 100 esemplari, che era rimasto proprio all'interno del Parco del Gran Paradiso, ci rendiamo conto che la specie è in espansione. Però la sua storia recente di fatto è ancora visibile. Infatti la specie ha una variabilità genetica estremamente bassa e alcune popolazioni, come purtroppo quella del Parco del Gran Paradiso, stanno subendo, sono in un periodo non particolarmente favorevole. Infatti nel Parco del Gran Paradiso vengono fatti dei censimenti già a partire dagli anni 50, fornendo una serie storica veramente unica. E questo ci ha permesso di renderci conto come la specie sia cresciuta fino ad arrivare a un numero di quasi 5.000 esemplari alla metà degli anni 90 e poi è iniziato un declino che tuttora non siamo certi appunto che sia terminato, fino ad arrivare agli attuali poco più di 2.800 animali contati nell'ultimo censimento. Si è quasi dimezzata la popolazione del Parco del Gran Paradiso. Attualmente, quali sono le cause individuate o che sembrano le cause attualmente più concrete del calo dello stambecco? Sì, a livello numerico la causa prossima del calo della popolazione è la mancata sopravvivenza dei capretti. Infatti, dei giovani, che rappresentano la classe più vulnerabile perché nascono a giugno e il primo inverno che si trovano a dover superare è il più critico per loro. Si è passati da una sopravvivenza che era intorno al 60% negli anni 90 fino ad arrivare a un 30-35% dell'ultimo decennio. Quindi capite che se i giovani stambecchi non sopravvivono non è possibile che la popolazione cresca. Le cause che portano a questa mancata sopravvivenza dei capretti sembrano essere identificate nel cambiamento climatico. Paradossalmente gli effetti sono duplici. Il cambiamento climatico sulle Alpi ha portato di recenti ad avere inverni poco nevosi. Questo, da un lato, ha favorito la sopravvivenza di individui anziani, anche di femmine anziane, che producono spesso dei capretti che sono meno forti e meno vitali. E, d'altro lato, questi inverni poco nevosi portano a un'anticipazione della stagione vegetativa, che è quella primaverile, che è quella che presenta la vegetazione di miglior qualità. Quindi, di fatto, non c'è più una sincronia tra il periodo dei parti delle femmine di stambecco e la massima disponibilità di vegetazione. Quindi i giovani stambecchi arrivano al primo inverno non in condizioni idonee e molti di loro, infatti, non riescono a superare l'inverno. È incredibile come siano veramente sottili, certe volte, le connessioni fra l'ambiente e l'animale che vive. Addirittura ci potremmo pensare, da quello che hai raccontato, che in realtà l'arrivo della primavera prima potrebbe aiutare. In realtà non è così, quindi bisogna stare veramente molto attenti quando no. Si va a toccare in qualche modo il clima, anche con le nostre azioni quotidiane. E negli ultimi anni, oltre all'impegno in generale che c'è da sempre nel Parco Nazionale per studiare gli stambecchi, c'è proprio un progetto di studio dell'ecologia dello stambecco dal 99, se non sbaglio. Cosa avviene? Cosa state studiando? Questo progetto è in corso nell'area di studio di Levione, in Val Savarance, e è possibile perché in quest'area ogni anno vengono marcati, ovvero catturati e resi individualmente riconoscibili, un certo numero di individui. Questo è possibile grazie a un'equip veramente, estremamente professionale, che riesce a, composta dal servizio di sorveglianza e dal servizio scientifico del parco, che riesce a ridurre lo stress ovviamente sugli animali al momento della cattura. A questo punto nell'area si avvicendano studenti, ricercatori di diverse università italiane e anche straniere, e appunto dal 99 raccogliamo dati che consentono di avere delle serie storiche. In particolare, la maggior parte dei dati che vengono raccolti sono legati alla dimensione corporea, quindi al peso degli individui, la dimensione delle corna, la carica parassitaria, la sopravvivenza dei capretti, la fecondità delle femmine e anche molti dati di tipo comportamentale sul sistema riproduttivo e sulla socialità di questa specie. Cosa avete trovato che può essere interessante dal punto di vista delle conoscenze che siete riusciti a ottenere? Ma sicuramente, il dato di cui ho parlato prima sulla sopravvivenza dei capretti è stato possibile tramite questo. Inoltre, grazie sempre alla collaborazione con il servizio di sorveglianza, che raccoglie tutte le teste e le corna degli animali trovati morti, siamo anche riusciti a misurare, appunto, a trovare una differenza nella dimensione delle corna degli individui che stanno vivendo adesso rispetto a quelli che vivevano nel passato. E abbiamo visto come gli animali che vivono adesso hanno le corna in media più piccole degli animali che vivevano un tempo. E questo ancora si può in parte collegare con il discorso di prima, in quanto le corna sono un carattere che è importante per la competizione tra maschi, ma non è importante necessariamente per la sopravvivenza e quindi può esserci un'allocazione di risorse diversa nei maschi tra la crescita delle corna e l'aumento della massa corporea. Noi vi facciamo i migliori auguri per la prosecuzione delle vostre ricerche. Sono specie importanti queste. Grazie, grazie Alice Brambi, la naturalista e ricercatrice del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Sono specie cosiddette umbrello, quindi molto importanti perché la loro sopravvivenza fa poi sopravvivere tutto l'ecosistema che gravita e che le permette a loro di vivere.